Passo indietro e seconda sconfitta stagionale per il Rosso Blu. In quel di Castelfidardo, ormai campo stregato, il capovasso lascia non solo i punti ma anche qualche convinzione di crescita. Le ultime uscite prima della partita in terra marchigiana sembravano aver portato gli uomini di Novelli su un discreto standard di gioco. Al contrario, il passo indietro è stato abbastanza netto. Le cause vanno ricercate sicuramente nell'assenza di Meduri. Il regista garantisce trame e idee a tutta la squadra, anche se non può essere un attenuante la mancanza di un solo elemento, seppur fondamentale. Ancora, la giovane età del gruppo. La squadra non è ancora matura per affrontare al massimo dell'attenzione tutte le partite e infine un problema evidente nel realizzare gol. In tre uscite su cinque, nessuna rete per i lupi, precisamente a Pineto e Castelfidardo e con la San Maurese in casa. Il lavoro di mister Novelli è mirato proprio a questa crescita, migliorare dal punto di vista dell'attenzione, in particolare sui calci piazzati in fase difensiva. Il gol di Siletti domenica è nato da una dormita generale e riuscire a creare naturalmente un maggior numero di palle e gol. Domenica prossima in casa contro l'Alfonsine serve una vittoria, sia per la classifica e sia per ottenere il primo successo tra le mura amiche. Intanto continua l'equilibrio generale nel girone F. Un trio in testa va stese olimpia agnonese e matelica a quota 11. Come visto anche nei match del Campobasso, il livello medio non è di certo irresistibile. Per quanto riguarda la squadra, ai nostri microfoni il difensore D'Angelo. È stata una mancanza di attenzione a livello di squadra e sull'unica mancanza di attenzione abbiamo subito gol. Purtroppo è una categoria dove non possiamo mancare di un secondo l'attenzione perché ci sono giocatori importanti e ci puniscono. Nel secondo tempo specialmente avete creato poco, peccato perché la partita in generale era partita bene con l'approccio molto giusto da parte del Campobasso. Poi avete obiettivamente perso un po' le distanze tra i reparti. Io penso che abbia fatto un buon primo tempo dove abbiamo messo in mostra ciò che vogliamo fare, ciò che proviamo durante la settimana. A volte c'è riuscita e a volte no, però è stato un buon primo tempo da parte del Campobasso dove abbiamo fatto diverse trame offensive che proviamo e riproviamo in allenamento. Quindi ci è uscito bene. Il secondo tempo vuoi perché abbiamo preso gol e poi ci siamo disuniti un attimo per la voglia di andare a pareggiare, non per altro. Avevamo la voglia di andare a pareggiare, quindi eravamo un po' sbilanciati in attacco e abbiamo preso un po' di misure. Ecco Novelli ha anche sottolineato come non si faccia in partita quello che si prova in allenamento. Questo può essere un aspetto anche grave delle prime cinque giornate di campionato del Campobasso. Poi ti chiedo se ritieni ci sia stato un passo indietro nelle prestazioni. Il mister ha visto la partita da fuori e quindi saprà sicuramente molto meglio di me. Il passo indietro è stato fatto sul secondo tempo secondo me perché il primo abbiamo fatto una buona mola di gioco anche se non è stata concretizzata con tiri o occasioni vere e proprie da gol. Però arrivavamo sempre nei loro 20-16 metri e ci mancava l'ultimo passaggio. Il passo indietro forse sull'aspetto del gioco c'è stato il secondo tempo per la voglia di andare a pareggiare a tutti i costi una partita che non stavamo demeritando di perdere. Cinque punti dopo cinque partite, bilanci rimandati oppure lo vogliamo già iniziare a tracciare un breve e piccolissimo profitto delle prime partite di campionato? Il bilancio è sicuramente rimandato perché ci sono cinque partite e non sono chiusi i giochi per niente. Né per la vittoria del campionato né per i playoff né per quant'altro. Sicuramente c'è da rimboccarsi le maniche perché non possiamo lasciare punti per strada se vogliamo fare un campionato importante da protagonisti.